Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Una ex di Flavio Briatore ha cambiato look e ha mostrato il suo nuovo colore di capelli su Instagram Cosa c'è di vero? Di chi si tratta? Flavio Briatore ha avuto tanti flirt nella sua vita Come dimenticarsi fra gli anni 90 e 2000 della sua relazione con la bellissima top model Naomi Campbell L'imprenditore ha avuto una relazione anche con la top model Heidi Klum Negli anni successivi è nota a tutti la sua storia con la showgirl Elisabetta Gregoraci Briatore e la Gregoraci si sono sposati nel giugno del 2008 e dalla loro relazione è nato anche un figlio nel 2010, Nathan Falco Il matrimonio fra l'imprenditore e la Gregoraci, però, è terminato nove anni dopo, precisamente nel dicembre del 2017 Ma cosa è accaduto a una ex di Flavio Briatore? Il cambiamento di una ex di Briatore Fra i tanti flirt di Flavio Briatore spicca anche quello con una una nota influencer Si tratta di Taylor Mega, nome d'arte di Elisa Todesca, una ragazza di 28 anni che conta oltre 2 milioni e mezzo di followers su Instagram Nell'estate 2018 Flavio Briatore e Taylor Mega ebbero un breve flirt A chiudere la storia è stato l'imprenditore a causa della gelosia dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci Taylor Mega aveva anche raccontato in tv gli attacchi di gelosia della Gregoraci verso di lei, Elisabetta Gregoraci? Una volta mi urlò contro facendo una scenata di gelosia Eravamo in questo tempo, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse e a un certo punto la sento urlare contro di me La web influencer ha ammesso che la storia con Briatore terminò anche per questo motivo Ma perché oggi è irriconoscibile? Il look diverso.Su Instagram Taylor Mega ha pubblicato diverse stories inerenti al suo look diverso rispetto al passato Ma si tratta in realtà di un bluff Infatti, la bella influencer ha indossato una parrucca nera con i capelli mossi Molti fan si sono stupiti del cambiamento in un primo momento, ma poi Taylor Mega ha chiarito Comunque mi avete fatto un sacco di apprezzamenti e vi ringrazio P.S. Bionda tutta la vita, ma sono 28 anni che sono sempre uguale e ogni tanto mi piace cambiare Questo è l'unico modo per farlo perché non mi tingerei o taglierei mai nella vita i capelli Taylor Mega ha aggiunto, a breve metterò altri colori che saranno molto più crazy Ah e mia mamma stranamente ha approvato le parrucche, quindi aspettatevi di tutto nuovo Taylor Mega col suo nuovo look si è fatta fotografare in compagnia di Dejan Mello La modella brasiliana ha condiviso la foto sulle sue Instagram Stories, poi pubblicata anche dalla Mega Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao Ciao